ciao a tutti ragazzi oggi questo video lo vedremo con tre orologi tre esemplari differenti in configurazione ma di stessa referenza stesso pan number direi la radice srp sono il mio esemplare che conoscete già trovo molto bello questo esemplare che qui stai nel 2016 all'inizio della presentazione diciamo uno dei primi esemplari usciti abbiamo un paddy poi molto bello rappresentativo e poi abbiamo save the ocean questo è un esemplare che ha un bracciale aftermarket anche il mio bracciale aftermarket mentre la configurazione originaria è quello centrale del paddy sono tre orologi che performano bene come a livello sia funzionale che anche di efficacia però ogni tanto capita di avere qualche problemino difatti il registro un funzionamento normale sul sul mio l'unica cosa con tutte le stagioni di mare che ha fatto dal 2016 oggi noto soltanto sentite una sorta di frizione sulla sulla ghiera questo è un esemplare nuovo che non che non ha nessun problema difatti molto molto più in forma rispetto al mio e poi abbiamo il classico suono su questo save the ocean non è una particolarità che insomma va a ledere il funzionamento dell'orologio però insomma a me non ha mai dato problemi a livello funzionale questi orologi diciamo che il mio performa in marcia ogni tanto devo regolarlo perché hanno una stabilità specialmente questo esemplare una stabilità molto costante di marcia sullo 0 più 1 che però può andare a meno 11 in posizioni diverse però si è registrato un problema un problema che viene segnalato come un'anomalia cioè una preliminare un preliminare evento che potrebbe portare poi ad un evento un po più grave che quello del malfunzionamento totale quindi della sospensione di marcia dell'orologio andiamo quindi a vedere ecco 1 2 3 avete visto un leggero disturbo ma era dato dallo spostamento del mio indice sono tre orologi che marciano non non hanno nessun problema però adesso andiamo a vedere all'interno perché è stato segnalato un problema quindi andremo a vedere come sono fatti all'interno questi orologi quello che potrebbe essere stato il problema di del malfunzionamento di marcia quindi del ritardo qui addirittura si è registrato un ritardo in un pomeriggio di circa un'ora quindi una sospensione probabilmente dell'orologio del suo funzionamento che ha portato a questo ritardo andiamo a vederli adesso aperti andiamo a vedere all'interno cosa troviamo sostanzialmente non c'è nulla che si possa definire fuori posto fuori posto perché? perché la spirale alcune volte può ecco mi posiziono meglio la spirale sul su Seiko potrebbe avere certe volte dei problemi sul sul pitone sul pitone mobile o per alcune non so delle manomissioni oppure perché per contatto occidentale quindi è importante verificarla nel momento in cui si apre l'orologio poi vediamo questa è una spirale piana con racket che non presenta particolari problemi di andamento anche perché sono orologi questi che non girano ad amplitudini eccessive cioè quando un orologio come questo fa 250 gradi di amplitudine abbiamo già un bel risultato in termini di parametri rispetto a orologi che vediamo diversamente che toccano 300 a 310 gradi e questo è uno non ci sono corpi estranei vedete anche come è fatto il 4R36 come quasi tutti i calibri Seiko e ha un perimetrale in nylon si può dire che va a prendere anche in parte il calibro ed ecco l'altro questo è il paddy il perimetrale è ottimo perché consente di tenere in sede anche il l'orologio senza nessun tipo di movimento interno del calibro quindi questa è una caratteristica buona che consente anche di assorbire gli urti perché isola come i serramenti i serramenti è un taglio termico ha una capacità di isolamento termica rispetto alla parte esterna qui c'è una capacità anche di assorbimento degli urti una caratteristica che però su alcuni orologi vintage potrebbe anche portare dei problemi perché tale perimetrale potrebbe avere poi un deperimento delle sue caratteristiche elastiche portandolo a sgretolarsi dopo diverse decine di anni ma parliamo di decine e poi bisogna anche vedere come è tenuto anche l'orologio la conservazione insomma non è questo il caso di cui parliamo oggi ecco anche qui guardate ecco l'andamento delle spirali di entrambi gli orologi che ho verificato e girano intorno ai 220 gradi questa 200 250 gradi quest'altro beh qui non abbiamo registrato nessun problema neanche eccolo qua se avessi visto qualcosa sicuramente lo avrei sarei intervenuto andando a vedere il perché notate anche il bilanciere come il bilanciere il diametro del bilanciere del volantino quanto è piccola quindi con un'inerzia ridotta rispetto ad altri bilancieri che abbiamo visto e che diciamo offrono performance migliori anche durante il cambio di posizione beh ragazzi per questa volta è andato tutto a posto diciamo eccolo qua l'ultima cosa soltanto che volevo mostrarvi ecco questo è un bracciale ritorniamo qui mettiamo da parte questi due motori ecco questo è il bracciale originario OEM di Seiko con doppio pulsante molto efficace e c'è anche un tratto di prolunga mentre sul mio è l'aftermarket di cui vi parlavo guardate gli aftermarket cambia la stampigliatura eccolo qua prometto l'ho comprato anche a scatola chiusa andando a non non ho guardato come dico sempre il millimetro nel chilometro l'ho comprato così però guardate la differenza fra un bracciale originario e uno non originario il sistema del pulsante è identico cambiano gli inserti del finale guardate un po' perché sono pieni completamente su tutto l'interasso mentre qui c'è un incavo per andare a rimuoverlo ma ricordatevi che invece l'estrazione deve essere fatta con un punzone laterale con un doppio pin questo per chi magari voglia commettere l'errore di comprare un aftermarket che poi magari non si presenta bene anche perché poi anche il guardate un po' la sezione poi di un perno di un Seiko SRP777 veramente notevole qui parliamo di uno spessore che è maggiore anche dello Speedmaster e anche del Submariner abbiamo A247 veramente un bel barilotto bene ragazzi vi lascio io questo è stato un video così estemporaneo che vi ho mostrato ci vediamo presto ciao a tutti eccolo qua vediamo un po' più 4 282 gradi di amplitudine 2,85 magari questo arriva anche a 300 perché c'è arrivato a 300 vediamo un po' spostiamo velocemente vediamo cosa succede sapete questo qui sale leggermente un po' suscettibile come carico 4R36 però vedete che si stabilizza bene più 7 Cosco ve lo ricordo meno 4 più 6 diciamo che ragazzi non ci si può lamentare con questo lo voglio ultima prova vediamo un po' e che vogliamo di più grazie a tutti grazie a tutti